Partite, il cavale del Verziere, Memorial Aldo Cirla. Partito particolarmente selettivo, Di Steyn è costretta a fare l'elastico mantenendosi a metà tra la battistrada e Follega che rimane terza nella scena della stessa tedesca, poi Lorenzetta che capeggia le altre quattro leggermente più arretrate. Questo è lo schema, si viaggia sempre a centropista con Alhambra che sta incrementando il suo vantaggio su Di Steyn che ovviamente lascia fare, Follega che non si lascia troppo da parte la stessa Di Steyn, le altre più dietro con Lorenzetta che rimane sempre in quarta posizione su Zattera, estreme le vintage o ritacce. E' ancora aumentato in questa fase di corsa il vantaggio di Alhambra con Di Steyn che nel frattempo si è fatta avvicinare in maniera più concreta da Follega, le due ovviamente si stanno curando con la stessa Lorenzetta che rimane leggermente più arretrata al largo estreme le vintage all'interno Zattera, un ritacce che chiude. L'interselezione delle piste per la fuggitiva Alhambra che ha sempre inalterato il suo margine di vantaggio, mentre Di Steyn adesso deve cominciare a muovere con Follega che a questo punto spunta al suo interno, allargo di tutti, estreme le vintage su Lorenzetta, poi Zattera e o ritacce. Alhambra che è ancora in vantaggio, Di Steyn che adesso richiesta il massimo impegno per andare a riprendere la fuggitiva, Follega su questa frazione accusa, più dietro Lorenzetta, Zattera o ritacce, poi ancora estreme le vintage. Alhambra ancora in vantaggio, è stanca ma vantaggio ampio, ma Di Steyn sta recuperando metro dopo metro, poi ancora Lorenzetta a fare il terzo, Alhambra che è ancora davanti, Di Steyn allargo che recupera, Di Steyn che recupera su Alhambra, inesorabilmente Di Steyn. Passa di slancio su Alhambra che si mantiene in quota per un ospitato secondo posto, al terzo ancora la stessa Lorenzetta, su Zattera, Follega e le altre.